Laudetur Jesu Christus, ben trovati da Stefano Leschins, in diretta dall'Aula delle Benedizioni in San Pietro, per la cronaca dell'incontro di Papa Francesco con i sacerdoti, religiosi, seminaristi e di catechisti della parrocchia di San Pietro nel villaggio tailandese di Wat Roman, nel Sam Pran District, un evento che avviene nell'ambito del 32esimo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco in Asia e che lo vedrà approdare tra qualche giorno anche in Giappone. Chi vi parla è Stefano Leschins, chi ne approfitto per salutare chi ci ascolta sulle frequenze di Radio Luce di San Benedetto del Tronto, chi ci segue in streaming sui canali del portale di Vatican News, sul canale di YouTube e sulle frequenze della Radio Vaticana. Papa Francesco è appena arrivato, è arrivato da poco, nel santuario del Beato Nicholas Bunker Kitbamrung, che è nel distretto di San Pran, vicino al luogo in cui è nato il Beato Nicholas Kitbamrung, un santuario che si trova di fronte alla parrocchia di San Pietro, luogo dove avviene per l'appunto l'incontro con i seminaristi, i catechisti, i sacerdoti e i religiosi. Subito a seguire dopo questo incontro ci sarà l'incontro con i Vescovi della Thailandia e della Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche, proprio nella chiesa del santuario del Beato Nicholas Bunker Kitbamrung, un santuario gremito di fedeli in una giornata di sole, come si può vedere dalle immagini che ci propone Vatican Media. Un viaggio iniziato da diversi giorni, è entrato nel vivo per il secondo giorno oggi, proprio con l'incontro con i religiosi. Per quanto riguarda questo santuario abbiamo detto che si trova a alcune decine di chilometri da Bangkok, capitale della Thailandia, è stato costruito in questo distretto vicino al luogo in cui è nato il Beato Nicholas Bunker Kitbamrung, un santuario che si trova proprio di fronte alla parrocchia di San Pietro. A dedicarlo a questo primo sacerdote martire tailandese è stato il cardinale Michael Michai Kitbun Chu, il 13 gennaio del 2001. La costruzione è stata ultimata nel maggio del 2003, un edificio che ha un'architettura moderna, a forma ottagonale, al suo interno vi sono custodite le reliquie di Nicholas Bunker Kitbamrung, beatificato il 5 marzo del 2000. L'11 ottobre del 2012 il cardinale Kitbun Chu ha benedetto la statua del Beato, eretta durante l'anno della fede per ricordarne l'esempio e la testimonianza di fede. Il santuario include anche un museo che commemora l'eroica vita del Beato e il suo grande contributo alla comunità cristiana tailandese. Una comunità cristiana non particolarmente grande, una comunità di minoranza, basti pensare che l'Arcidiocesi di Bangkok, una delle più popolose città del mondo, su 13 milioni e 748 mila abitanti, ne conta 121 mila 39 di religione cattolica. Ci sono in questa diocesi 55 parrocchie, due chiese, 148 sacerdoti diocesani, 92 sacerdoti regolari diocesani, 10 seminaristi, 251 membri di istituti religiosi maschili, 424 membri di istituti religiosi femminili, 134 istituti di educazione, 40 istituti di beneficenza. Secondo le statistiche della Chiesa, nell'ultimo anno si sono svolti, si sono celebrati ben 1.284 battesimi. Ma ecco Papa Francesco, che si appresta a avviarsi verso la parrocchia di San Pietro, nelle vicinanze della Chiesa del Santuario, e è accompagnato dal vescovo responsabile dei religiosi, che è il vescovo responsabile dei religiosi, che è Monsignor Joseph Pradhan Sridarun Sil, e tra l'altro è anche il vicepresidente della conferenza episcopale. Papa Francesco, dopo un giro tra i fedeli con la Papa Mobile, un giro in auto tra i fedeli, adesso si avvia a piedi verso l'ingresso della parrocchia, dove viene accolto dal parroco della Chiesa di San Pietro. Vediamo le immagini proprio in questo momento dell'accoglienza di Papa Francesco, che si appresta a entrare nella Chiesa di San Pietro per giungere al podio e attraversando la navata centrale di questa chiesa fondata nel 1840, originariamente una chiesa in bambù, la cui posa della prima pietra risale al 1 agosto del 1880. Intanto le immagini di Vatican News ci offrono un Papa Francesco sorridente, accolto dai molti religiosi che affollano questa chiesa. Una chiesa che è stata ampliata all'inizio del secolo scorso, nel 1910, e ricostruita totalmente nel 1970. È stata realizzata in uno stile moderno, è slanciata verso l'alto, all'interno particolare risalto viene dato all'altare. Nell'89 questa parrocchia è stata poi nuovamente restaurata a seguito di un incendio. Il Papa viene accolto da una sacerdote, una religiosa, un seminarista, un catechista che offrono dei fiori a Papa Francesco, fiori che vengono deposti di fronte alla statua di San Pietro. lo vediamo proprio in questo momento il Santo Padre che si appresta a deporre questo dono, questo omaggio floreale di fronte alla statua di San Pietro e sosta per qualche istante in silenziosa preghiera. Il Santo Padre si sposterà ancora dal stato di San Pietro dove si è soffermato in preghiera in questo istante. sosterà adesso di fronte al Santissimo e si avvicina al podio. ecco mentre sosta di fronte al Santissimo per un momento di preghiera. Prima di dare inizio a questo incontro con i sacerdoti religiosi, seminaristi e catechisti della Thailandia nel corso di questo trentaduesimo viaggio apostolico internazionale che oltre che in Thailandia lo porterà in seguito anche in Giappone. Un momento di preghiera molto intenso quello che ci stanno offrendo le immagini trasmesse in diretta dalla Thailandia dove ricordiamo in questo momento sono le circa le dieci del mattino mentre qui in Italia è ancora notte fonda. Ed ecco che Papa Francesco si avvia al podio per prendere posto e proprio qui riceverà l'indirizzo di saluto da parte del Vescovo responsabile per i religiosi Monsignor Joseph Pradhan Sridarunzil che è come abbiamo detto il vicepresidente. A lei rivolgiamo il nostro grado saluto con la gioia di di avere presente tra noi. Sua eccellenza Monsignor Pradhan Sridarunzil quale rappresentante della conferenza episcopale Thai responsabile della vita consacrata presente tutti noi qui presenti consacrate e consacrati sacerdoti seminaristi catechisti e fedeli provenienti dalle varie diocesi nell'esprimere il nostro cordiale grado benvenuto. e questa era una suora thailandese che ha introdotto il Monsignor Sridarunzil Santissimo Padre è un onore per me presentarle sacerdoti religiosi e religiose persone consacrate seminaristi novizi e catechisti circa mille persone riunite qui nella parrocchia di San Pietro in quanto cattolici thailandesi facciamo parte del continente asiatico dove le persone sono molto orgogliose i loro valori religiosi e culturali che includono l'amore per il silenzio e la contemplazione la semplicità l'armonia il distacco la non violenza lo spirito del duro lavoro della disciplina della vita semplice della sete di conoscenza e di ricerca filosofica nella società thailandese si sono verificati rapidi cambiamenti che hanno prodotto effetti sia positivi che negativi tra la nostra gente molti si trovano ad affrontare situazioni difficili in ambito economico culturale e morale a causa delle più diverse ragioni come la povertà la mancanza di opportunità e difficoltà personali di vario genere tutto questo provoca conseguenze inevitabili sulla vita familiare e sui valori un altro aspetto della thailandia riguarda la sua società che invecchia con tutte le sfide che questa tendenza sociale genera dobbiamo quindi prestare maggiore attenzione al lavoro pastorale rivolto agli anziani specialmente a quelli lasciati soli a casa fin dall'inizio della chiesa quando due missionari domenicani gettarono i semi della fede nella nostra madre terra i religiosi e le religiose sia locali che missionari hanno gradualmente assunto il loro posto in essa attualmente si contano 35 congregazioni religiose femminili con 1378 membri 22 congregazioni religiose maschili con 456 membri 7 società di vita apostolica con 41 membri inoltre ci sono tre ordini monastici con 164 membri e si rappresentano una piccola candela accesa da Gesù per i poveri vulnerabili e gli esclusi l'evangelizzazione è iniziata nel 1669 e fino ad oggi ha sempre risposto con la missione ai segni del tempo la chiesa thailandese si trova oggi ad affrontare la stessa situazione degli altri paesi del mondo e cioè una crisi della diminuzione delle vocazioni tuttavia siamo consapevoli del nostro senso della chiesa nell'andare avanti insieme per annunciare la buona novella pertanto la conferenza episcopale della Thailandia ha orgogliosamente istituito la Thai Mission Society per condividere i nostri sacerdoti e religiosi con i paesi vicini è interessante notare come il numero di candidati in questo settore stia aumentando quindi vediamo una chiesa impegnata nell'educazione sia formale che informale sia in città che in campagna vediamo una chiesa che lavora efficacemente per promuovere la dignità umana raccogliendo la sfida della lotta la tratta di esseri umani attraverso l'agenzia Thalita Kung Thailand vediamo una chiesa che si prende cura dei bambini specialmente di quelli poveri e abbandonati vediamo una chiesa impegnata nell'emancipazione delle donne specialmente delle madri sole delle prostitute e delle vittime di abusi vediamo una chiesa che fornisce assistenza sanitaria che rende il suo servizio con compassione e in tanti modi diversi vediamo una chiesa che accompagna i giovani riconoscendo in loro una popolazione essenziale nella nostra comunità che chiede la nostra attenzione nella missione in modo che possano sviluppare le loro potenzialità per essere la chiesa nel futuro santità la chiesa thailandese è al servizio di tante persone in tanti ministeri non è importante quanto facciamo perché ciò che conta veramente è che siamo testimoni viventi dell'amore della compassione e della giustizia di Dio nella società apprezziamo veramente tanto la sua presenza qui con noi oggi la ringraziamo e umilmente le chiediamo di condividere le sue parole di saggezza per illuminarci e guidarci mentre continuiamo il nostro cammino sulla strada di Dio al servizio del suo popolo come Gesù suo figlio ci ha mostrato con la sua vita chi sta ancora parlando è Monsignor Iosef Pradan Fridarunzil responsabile dei religiosi e vicepresidente della conferenza episcopale tailandese nel suo discorso Monsignor Fridarunzil ha sottolineato quelle che sono le sfide della chiesa in Thailandia e anche quella che è la ricchezza che questa chiesa rappresenta con i numeri che ha esposto riguardanti le molte congregazioni religiose femminili che contano in tutto 1378 membri tra congregazioni mentre quelle maschili contano 456 membri ha raccontato della antichità dell'evangelizzazione in Thailandia iniziata nel 1669 tra le sfide che la chiesa tailandese affronta Monsignor Fridarunzil ha sottolineato il settore dell'educazione il settore della promozione della dignità umana della lotta alla tratta di esseri umani attraverso una specifica agenzia l'agenzia Talita Cum è una chiesa che si prende cura dell'infanzia soprattutto di quell'infanzia più povera e abbandonata una chiesa che fornisce assistenza sanitaria Monsignor Sididarunzil si avvicina in questo momento al Santo Padre per un saluto molto affettuoso a nome dell'intera chiesa tailandese di tutti i religiosi del paese e adesso ascoltiamo invece una testimonianza di una religiosa per tutti i numerosi doni che da Dio riceviamo ogni giorno cantiamo in canto sulla strada del suo amore e prima della testimonianza religiosa e suor benedetta adesso un canto eseguito dai religiosi un canto di ringraziamento di di un canto Grazie a tutti. In collegamento con l'Aula delle Benizioni in Vaticano per la diretta dell'incontro di Papa Francesco con i sacerdoti, i religiosi, i seminaristi e i catechisti della Thailandia nella parrocchia di San Pietro, presso il santuario del peato Nicholas Bankert Kit Bam Rung. Un incontro che avviene nell'ambito del 32esimo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco in Asia e, nello specifico, in Thailandia e in Giappone. Quello che stiamo ascoltando in questo momento è un canto di ringraziamento eseguito dai circa mille religiosi che si trovano all'interno della chiesa di San Pietro per partecipare all'incontro con Papa Francesco. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi salveiddetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi chiamo Benedetta YoungrakTONOR हignant, nata nel 1975. Sono stata fattezzata nel 2012 e attualmente sono postulante nella congregazione delle missionarie di Maria. professano la ledizione buddhista, tuttavia hanno cuore aperto alla buona notizia di Cristo Gesù, a Dio che ha donato la grazia della confessione. Lei si è gradito a scontare la testimonianza della fede di Benedetta Chonglak Don Oran, membro della contestazione suole Sibiriale. Santita, grazie a tutti i nostri amici, 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 grazie a tutti i nostri amici. Una testimonianza, quella di Benedetta Chonglak Don Oran Ken, avviene in Lingbatai, nata nel 1975, è stata battezzata nel 2012, attualmente postulante nella congregazione delle missionarie di Maria Saveriana. La mia famiglia d'origine dice buddista e vive secondo l'insegnamento buddista che anche io condividevo. Fare il bene ci libera e ci assicura il paradiso. Chi fa il bene riceve il bene. Perché deve esserci Gesù che si prende le conseguenze dei nostri peccati al posto nostro. Mentre studiavo, ebbi l'opportunità di entrare nella chiesa cattolica che c'era nel mio paese, la chiesa dell'Immacolata Concezione. Allora avevo 15 anni e le suore, figlie della carità, invitarono noi ragazze a una celebrazione domenicale. Ci andai con le mie amiche e appena entrata in chiesa, vidi la statua di una donna che non sapevo chi fosse, ma mi colpì la sua bellezza e il suo modo di guardarmi. Poi vidi l'immagine di un uomo crocifisso. Mi faceva molta paura. Da allora ho iniziato a partecipare di mia iniziativa alla messa della domenica, perché attratta dalla bellezza di quella donna e volevo conoscerla di più. Fu così che cominciai a conoscere la Madonna e Gesù. Non credevo però che Gesù fosse Dio e mi chiedevo come potesse un uomo eliminare i peccati di altri uomini. Avevo però tanta fiducia in Maria. Pregavo il rosario che avevo imparato dalle suore e partecipavo alle attività domenicali con i cristiani. Continuai a lavorare e studiare nella stessa scuola. A 33 anni poi decisi di licenziarmi per seguire il mio ideale e dedicarmi al bene della società, come insegnante volontaria nei villaggi sui monti. Ero sulla mia strada quando gli eventi mi fecero incontrare padre Raffaele del Pime a Chiang Mai. Andai a lavorare con lui alla Casa degli Angeli, struttura di accoglienza per bambini disabili nella parrocchia di Nostra Signora della Misericordia, Nontaburi, e con le missionarie di Maria Saveriane. Dopo un certo tempo voglio entrare a curiosare tre gruppi di catecumenato per vedere cosa si faceva. Conobbi un po' di più Gesù e ascoltai il suo Vangelo. Sentii la sua parola come lama affilata lavorare nel mio cuore. Le sue esigenze mi inquietavano eppure non volevo cedere. Continuare ad ascoltarla era però come giocare col fuoco. La mia inquietudine e il mio disagio crescevano. Una notte, in un dormiveglia inquieto, sentii come una voce che mi ordinava vai a lavorare altrove, vai lontana da questo gruppo. E un'altra voce diceva con dolcezza, ti, io ti amo. Questa mi portò tanta pace e calma nel cuore. Dopo poco più di un anno chiesi di ricevere il battesimo. Il padre rifiutò e mi invitò ad aspettare ancora. La verità è che non ero ancora pronta per ricevere il sacramento del battesimo. Volevo solo curare il malessere che sentivo, ma non chiedevo la misericordia di Dio. Pian piano mi resi conto che il battesimo non potevo riceverlo per mio merito, ma solo per dono di Dio. Frequentai il catechismo per un altro anno. Ora, in ginocchio, chiedevo la misericordia di Dio. La grazia venne come conversione del cuore. Per via del battesimo sono morta e sono rinata di nuovo nel Signore Gesù Cristo. Mi sono lasciata vincere dal suo amore, dalla sua pazienza che aspettava che sua figlia ritornasse a lui. Non avrei creduto senza avere l'esperienza dell'amore di Dio. Dio è amore e si è manifestato in Gesù. Io l'ho incontrato. Ecco la buona notizia per la mia vita. La stessa per cui Paolo, l'apostolo delle genti, dice, è a causa della grazia che mi è stata concessa da parte di Dio di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro del Vangelo di Dio perché i pagani divengano una oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. La stessa buona notizia per la quale anch'io desidero ora donare la mia vita. Io continuerò a cercare la volontà di Dio. Lo ringrazio per il dono grande del suo figlio e dello Spirito Santo che hanno illuminato la mia vita e per aver mandato i missionari per testimoniare il suo amore in Thailandia. Davvero la parola di Dio non è semplicemente lettera scritta in un libro, ma è parola viva che dona vita. Quella che continuiamo a sentire è la testimonianza di Benedetta Yongrak Donoran, detta Ti, una donna nata nel 1975 e poi battezzata nel 2012, attualmente postulante della congregazione delle missionarie di Maria Saveriane. Benedetta Yongrak Donoran ha raccontato la storia della propria vocazione e della propria conversione. Conobbe per la prima volta a 15 anni le suore figlie della carità e grazie all'invito alla frequentazione di queste suore ebbe occasione di iniziare a frequentare la chiesa e le celebrazioni domenicali, avvicinandosi con curiosità e anche con un certo timore alla religione cattolica. Nel corso della sua frequentazione della chiesa ha avuto occasione anche di incontrare un missionario che gli ha permesso di lavorare con lui in una struttura di accoglienza per bambini disabili. Questa era la testimonianza di questa postulante nella congregazione delle missionarie di Maria di questa religiosa che con grande commozione riceve in questo momento la benedizione del Santo Padre col quale ha occasione di scambiare alcune parole. Proprio lei che all'età di 15 anni si è avvicinata alla chiesa per poi diventarne un membrefettivo. Grazie. 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 sia in attesa il discorso del Santo Padre. Un momento divertito per il mancato funzionamento del microfono. Il Papa Francesco si rivolge ai religiosi della Tailandia in lingua spagnola. Ha ringraziato Monsignor Josef Radanz Ridarunzil per le parole di benvenuto a nome di tutti i religiosi. Sono contento di potervi vedere, ascoltare, di partecipare della vostra gioia e percepire come lo Spirito realizza la Sua opera in mezzo a noi. Grazie a tutti voi, catechisti, sacerdoti, consacrati e consacrate, seminaristi, per questo tempo che mi regalate. Grazie anche a Benedetta per aver condiviso la sua vita nella testimonianza. Mentre l'ascoltavo, cresceva in me un sentimento di gratitudine per la vita di tanti missionari e missionarie che hanno segnato la vostra vita e hanno lasciato la loro impronta. Benedetta ci ha parlato delle figlie della carità. Desidero che le mie prime parole con voi siano un ringraziamento a tutti i consacrati che con il silenzioso martirio della fedeltà e della dedizione quotidiana sono stati fecondi. Non so se sono arrivati a poter contemplare o a gustare il frutto dei loro sacrifici. Ma senza dubbio sono state esistenze capaci di generare. Sono state promesse di speranza. Per questo, all'inizio del nostro incontro, vorrei invitarvi ad avere particolarmente presenti tutti i catechisti, i consacrati anziani, che ci hanno generato nell'amore e nell'amicizia con Gesù. Rendiamo grazie per loro e per gli anziani delle nostre comunità che non hanno potuto essere qui presenti. Dite agli anziani che il Papa li benedice. E che chiede anche la loro benedizione. Penso che la storia vocazionale di ognuno di noi è segnata da quelle presenze che hanno aiutato a scoprire e discernere il fuoco dello spirito. E' così bello e importante saper ringraziare. La grettudine è sempre un'arma potente. Solo se siamo in grado di contemplare e ringraziare concretamente per tutti i gesti di amore, generosità, solidarietà e fiducia così come di perdono di pazienza sopportazione e compassione con cui siamo stati trattati solo così lasceremo che lo spirito ci doni quell'aria fresca in grado di rinnovare e non rattoppare la nostra vita e missione. pensiamo a loro siamo grati e sulle loro spalle sentiamoci anche noi chiamati a essere uomini e donne che aiutano a generare la vita nuova che il Signore ci dona. Chiamati alla fecondità apostolica chiamati a essere agguerriti lottatori per le cose che il Signore ama e per le quali ha dato la vita chiediamo la grazia che i nostri sentimenti e i nostri sguardi possano palpitare al ritmo del suo cuore e oserei dirvi fino a piagarsi per lo stesso amore possano essere appassionati per Gesù e per il suo regno. In questo senso possiamo domandarci come coltivare la fecondità apostolica. Una bella domanda che tutti possiamo porci alla quale rispondere nel profondo del nostro cuore il Papa ha pronunciato queste parole fuori testo e ha chiesto che venissero tradotte in Thai. Il Papa dice è difficile per me comunicare con voi attraverso uno schermo lo schermo sul quale passa la traduzione del testo che Papa Francesco ha scritto per i religiosi ma dice ai genitori ai religiosi voi però avete una buona volontà e li ringrazio. rispondendo alla religiosa che ha parlato prima ha dato la sua testimonianza Benedetta tu ci hai parlato di come il Signore ti ha attratto per mezzo della bellezza è stata la bellezza di un'immagine della Vergine che con il suo sguardo speciale è entrata nel tuo cuore e ha suscitato il desiderio di conoscerla di più chi è questa donna? non sono state le parole idee estratte o freddi ragionamenti tutto è iniziato da uno sguardo bello che ti ha affascinato quanta sapienza nascondono le tue parole ridestare alla bellezza alla meraviglia allo stupore capace di aprire nuovi orizzonti e di suscitare nuovi interrogativi una vita consacrata che non è in grado di aprirsi alla sorpresa è una vita che è rimasta a metà strada una vita consacrata che non sia capace di sorprendersi tutti i giorni anche questo non è nel testo di gioire di rallegrarsi di sorprendersi è una vita consacrata che rimane a metà del cammino a metà strada grazie la suora che fa da interprete al santo padre traduce la parte a braccio e torna al testo il signore non ci ha chiamati per mandarci nel mondo a imporre obblighe alle persone o carichi più pesanti di quelli che già hanno ma a condividere una gioia un orizzonte bello nuovo e sorprendente mi piace molto quell'espressione di benedetto sedicesimo che considero paradigmatica e persino profetica in questi tempi la chiesa la chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente cosa vera e giusta ma anche bella capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda anche in mezzo alle prove questo ci spinge a non aver paura di cercare nuovi simboli e immagini una musica particolare che aiuti i tailandesi a risvegliare la meraviglia che il Signore ci vuole donare non dobbiamo aver paura di inculturare il Vangelo sempre di più lo ripeto non tengamos miedo di cercare di inculturare non dobbiamo aver paura di inculturare il Vangelo sempre di più bisogna cercare le forme nuove per trasmettere la parola capace di scuotere e ridestare il destino il desiderio di conoscere il Signore chi è quest'uomo chi sono queste persone che seguono un crocifisso preparando questo incontro ho potuto leggere con una certa pena che per molti la fede cristiana è una fede straniera è la religione degli stranieri questa realtà ci spinge a cercare con coraggio i modi per proclamare la fede in dialetto alla maniera alla maniera in cui una madre canta la ninna nanna al suo bambino con questa fiducia darle volto e carne tailandese che è molto di più che fare delle traduzioni e lasciare che il Vangelo si svesta di vestiti buoni ma stranieri per risuonare con la musica che a voi è propria in questa terra e far vibrare l'anima dei nostri fratelli con la stessa bellezza che ha incendiato il nostro cuore vi invito a pregare la Vergine che per prima ha affascinato Benedetta con la bellezza del suo sguardo e le diciamo con fiducia di figli ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne lo sguardo di Maria ci spinge a guardare nella sua stessa direzione verso quell'altro sguardo per fare tutto quello che lui ci dirà occhi che affascinano perché sono capaci di andare al di là delle apparenze e di raggiungere e celebrare la bellezza più autentica che vive in ogni persona uno sguardo che come ci insegna il Vangelo rompe tutti i determinismi i fatalismi e gli schemi dove molti vedevano solo un peccatore un blasfemo un esattore delle tasse un malfattore perfino un traditore Gesù Gesù è stato capace di vedere apostoli e questa è la bellezza che il suo sguardo ci invita ad annunciare uno sguardo che trasforma e che fa emergere il meglio degli altri pensano e nel comienzo della vocazione di tantos di ustedes pensando all'inizio della vostra vocazione tanti nella vostra giovinezza avete partecipato alle attività di giovani che volevano vivere il Vangelo e andavano a visitare i più bisognosi gli emarginati e disprezzati della città orfani e anziani sicuramente allora in molti siete stati visitati dal Signore che vi ha fatto sentire la chiamata a donare tutto si tratta di uscire da se stessi e in quello stesso movimento di uscita siamo stati incontrati nel volto delle persone che incontriamo per la strada possiamo scoprire la bellezza di trattare l'altro come un fratello non è più l'orfano l'abbandonato l'emarginato il disprezzato adesso ha un volto di fratello il fratello redento da Cristo questo è essere cristiani o si può forse intendere la santità prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità di ogni essere umano desidero sostenere e incoraggiare tanti di voi che quotidianamente spendono la propria vita servendo Gesù nei fratelli come evidenziava il vescovo nel presentarvi lo si vedeva orgoglioso a tanti di voi che riescono a vedere la bellezza dove altri vedono solo disprezzo abbandono o un oggetto sessuale da sfruttare così voi siete segno concreto della misericordia viva e operante del Signore segno dell'unzione del Santo in queste terre questa unzione esige la preghiera la fecondità apostolica richiede e si sostiene grazie alla coltivazione dell'intimità della preghiera un'intimità come quella di quei nonni che pregano assiduamente il rosario quanti di noi abbiamo ricevuto la fede dai nostri nonni e le abbiamo visti così tra le faccende di casa con la corona in mano consacrare tutta la giornata la contemplazione nell'azione permettendo a Dio di entrare in tutte le piccole cose di ogni giorno è essenziale che oggi la Chiesa annunci il Vangelo a tutti in ogni luogo in ogni occasione senza indugi e senza paura come persone che ogni mattina in un incontro personale col Signore vengono nuovamente inviate senza la preghiera tutta la nostra vita la nostra missione perdono senso forza e fervore se manca la preghiera qualsiasi lavoro che venga svolto non tiene forza non tiene valore la preghiera è il centro di tutto queste le parole pronunciate fuori testo dal Santo Padre che vengono ora tradotte in Thai dalla traduttrice diceva San Paolo VI che uno dei peggiori nemici dell'evangelizzazione è la mancanza di fervore e il fervore per il religioso la religiosa il sacerdote il catechista si alimenta in questo duplice incontro col volto del Signore e con quello dei fratelli anche noi abbiamo bisogno di quello spazio in cui ritornare alla fonte per bere l'acqua che dà vita immersi in mille occupazioni cerchiamo sempre lo spazio per ricordare nella preghiera che il Signore ha già salvato il mondo e che siamo invitati con Lui a rendere tangibile questa salvezza grazie ancora per la vostra vita per la testimonianza e la donazione generosa vi chiedo per favore di non cedere alla tentazione di pensare che siete pochi pensate piuttosto che siete piccoli piccoli strumenti nelle mani creatrici del Signore Lui scriverà con la vostra vita le più belle pagine della storia della salvezza in queste terre e non dimenticatevi per favore di pregare e di far pregare per me grazie Papa Francesco ha concluso con queste consuete parole il suo discorso e si appresta a recitare la preghiera per le vocazioni signore della coseccia signore della messe benedici i giovani con il dono del coraggio di rispondere alla tua chiamata apri i loro cuori ai grandi ideali e alle grandi cose ispira tutti i tuoi discepoli all'amore e al dono reciproci perché fioriscano le vocazioni nella buona terra dei fedeli in stilla in coloro che sono nella vita religiosa nei ministeri delle parrocchie e nelle famiglie la fiducia e la grazia affinché invitino gli altri ad abbracciare l'audace e nobile cammino di una vita consacrata a te uniscici a Gesù attraverso la preghiera e il sacramento affinché possiamo collaborare con te nell'edificio del tuo regno di misericordia e di verità di giustizia e di pace Amen e ora i fedeli i religiosi si preparano a ricevere la benedizione del Santo Padre Domenico Obispo e la Gisiproca Sì Nomen Domeni Benedicti Aiutare in Osso in Nomeni Domeni Benedicti Ados Omnico Dei Pater e Filho e Spiritus Sancti Amen Affidiamo la nostra vita al Signore Gesù Chiediamo la forza per poter vivere fedeli al suo insegnamento con incanto la via di Gesù Dio 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 E mentre i religiosi intonano il canto finale di questo incontro viene consegnato il dono di Papa Francesco al parroco di la parrocchia di San Pietro e per il santuario del Beato Nicholas Bunkard un dono che consiste in un ostensorio un ostensorio realizzato in metallo dorato nell'ambito della moderna manifattura di oggetti artistici destinati alla liturgia questo ostensorio si presenta, lo avete visto in qualche istante nelle immagini si presenta come un'elegante lavorazione dal gusto baroccheggiante impreziosito da una serie di elementi decorativi e racemi d'acanto che non solo ne incorniciano il ricettacolo ma ne rendono più ricca e splendente la raggera che circonda il corpo di Cristo e mentre i religiosi, i catechisti, i seminaristi, le religiose intonano questo canto finale Papa Francesco esce dalla parrocchia di San Pietro per recarsi nella prossima chiesa del santuario del santuario del Beato Nicholas Bunkard Kitbam Rung per l'incontro con i vescovi della Thailandia il santo padre è uscito dalla parrocchia di San Pietro dove ha incontrato i religiosi della Thailandia si avvia a piedi verso la chiesa del santuario del Beato Nicholas Bunkard Kitbam Rung circondato dagli uomini della sicurezza ma con l'affetto dei fedeli trabordante che riescono ad avvicinarlo per stringergli la mano per ricevere una benedizione per un sorriso del santo padre che non si sottrae a questo incontro con la popolazione locale con i fedeli della Thailandia giunti numerosi per festeggiare Papa Francesco ecco che gli viene gli viene avvicinata una piccola bambina per ricevere la benedizione e il saluto del Papa e poi quasi come una star gli vengono avvicinati i foglietti dell'incontro per chiedergli un autografo ecco viva il Papa le acclamazioni dei fedeli al santuario mentre Papa Francesco si avvia al secondo incontro di questa giornata nella chiesa del santuario del Beato Nicholas Kitbam Rung il Papa viene accompagnato dal Cardinale Arcivescovo di Bangkok e al Cardinale Presidente della Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche che è il Presidente dell'attuale Presidente della Conferenza Episcopale Thailandese il Cardinale Francis Xavier Kringshak Kovitavani l'Arcivesco di Bangkok mentre invece nell'incontro con i religiosi ha parlato a nome della Conferenza Episcopale il Vice Presidente Monsignor Sridharunzil che è anche il Vescovo responsabile dei religiosi thailandesi ed ecco veramente a pochissima distanza tra i locali della parrocchia di San Pietro e la chiesa del santuario dove Papa Francesco è appena entrato e anche qui molti religiosi in attesa molti fedeli che si aggirano per il santuario un santuario che si trova a una trentina di chilometri da Bangkok un santuario che è stato dedicato al primo sacerdote martire thailandese nel gennaio del 2001 con una costruzione che ha una forma moderna ottagonale al cui interno sono custodite le reliquie del primo sacerdote martire thailandese che è stato beatificato il 5 marzo dell'anno 2000 nel 2012 il cardinale Kit Bun Chu ha benedetto le reliquie e la statua che ho scusa del beato Nicola passerezza durante l'anno della fede per ricornarne l'esempio e la testimonianza di fede il santuario include anche un museo che commemora l'eroica vittoria del beato il suo grande contributo alla comunità cristiana thailandese abbiamo sentito da il vescovo Monsignor Sridharunzil i numeri della chiesa thailandese numeri che dimostrano una vivacità di fede e che si possono sintetizzare e ripercorrere né in quello che è stato proprio l'intervento di Monsignor Sridharunzil numeri che ci dicono che la chiesa thailandese conta ben 35 congregazioni religiose femminili 22 congregazioni religiose maschili sette società di vita apostolica tre ordini monastici non sono numeri grandi sono numeri abbastanza contenuti 1378 i membri femminili 456 quelli maschili ma come ha detto il santo padre nel suo discorso non sentitevi una miglioranza sentitevi piccoli ma preziosi ed ecco che Papa Francesco viene accolto dai vescovi della Thailandia la conferenza episcopale thailandese è stata istituita nel 1975 mentre la federazione delle conferenze episcopali asiatiche che riunisce ben 19 conferenze episcopali ha la sua sede centrale a Hong Kong ed è stata fondata nel 1972 ed ecco che il cardinale Kringsang saluta il Papa ringraziandolo per il suo arrivo a nome dei vescovi della Thailandia e dei vescovi della federazione delle conferenze episcopali dell'asia siamo riuniti qui con lei santo padre per ascoltare le sue parole sul nostro ruolo di pastori del piccolo gregge che è in Asia terra nativa delle maggiori religioni tradizionali del mondo e sul nostro ruolo nella e per la chiesa il prossimo anno nel 2020 la federazione delle conferenze episcopali dell'asia celebrerà il cinquantesimo anniversario della sua istituzione con una conferenza generale che avrà luogo qui a bangkok il tema sarà fa abc 2020 camminiamo insieme come popoli dell'asia il nostro obiettivo è promuovere la solidarietà e la corresponsabilità per il benessere della chiesa e della società in asia fra i membri della federazione ospichiamo che questa celebrazione contribuisca alla nuova evangelizzazione in modo che la nostra vita le nostre azioni e le nostre parole possano testimoniare Gesù e il Vangelo in particolare in quanto vescovi della Thailandia desideriamo dedicarci con spirito di dialogo fraterno al servizio dei nostri fratelli e sorelle asiatici specialmente dei poveri e di coloro che desiderano conoscere Cristo e cercare la sua verità inoltre desideriamo essere artigiani di pace e di riconciliazione in questa regione che ha vissuto tanti conflitti che ha avuto tanti sfollati e che ha conosciuto la piaga del traffico di esseri umani la chiesa thailandese vuole mostrare al mondo come può essere la società quando vengono messi in pratica il vangelo e lo spirito di comunione in questo modo i discepoli di Cristo in Thailandia sapranno superare le divisioni sociali santo padre in nome dei miei fratelli vescovi la ringrazio di nuovo per essere qui con noi oggi e per le sue parole di incoraggiamento e di guida del nostro cammino affinché possiamo essere icone viventi dell'amore di Dio per il suo popolo in Asia chiediamo la sua benedizione su di noi e su tutte le nostre comunità grazie santo padre e adesso papa francesco si appresta a pronunciare il suo discorso di fronte ai vescovi della Thailandia e della interazione delle conferenze episcopali asiati che è stato portato un tavolino di fronte alla sede di papa francesco che si prepara a pronunciare il suo discorso di fronte ai cardinali ai vescovi della conferenza episcopale della Thailandia nuovamente c'è qualche problema con il microfono la voce del papa non è amplificata ecco il papa parla nuovamente in spagnolo sono grato a sua eminenza il cardinale Francis Xavier Cringsac Covitavani per le sue gentili parole di introduzione e di benvenuto sono contento di poter stare con voi e di condividere anche se brevemente le vostre gioie e speranze le vostre iniziative e i vostri sogni come anche le sfide che affrontate in quanto pastori del santo popolo fedele di Dio grazie per la vostra fraterna accoglienza il nostro incontro di oggi ha luogo nel santuario del beato Nicolás Bunkard Kit Bam Rung che ha dedicato la sua vita all'evangelizzazione e alla catechesi formando discepoli nel Signore soprattutto qui in Thailandia come anche in parte del Vietnam e lungo la frontiera con il Laos e coronò la sua testimonianza a Cristo con il martirio mettiamo questo incontro sotto il suo sguardo perché il suo esempio stimoli in noi un grande zelo per l'evangelizzazione in tutte le chiese locali dell'Asia e possiamo essere sempre più discepoli missionari del Signore così la sua buona novella potrà essere sparsa come balsamo e profumo in questo magnifico e grande continente so che è in programma per il 2020 l'Assemblea generale della Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia nel cinquantenario della sua fondazione una buona occasione per tornare a visitare quei santuari dove si custodiscono le radici missionarie che hanno segnato queste terre e per lasciarsi sospingere dallo Spirito Santo sulle orme del primo amore e questo permetterà di aprirsi con parresia a un futuro che siete chiamati a generare e attuare affinché tanto la Chiesa quanto la società in Asia beneficino di un impulso evangelico condiviso e rinnovato innamorati di Cristo capaci di far innamorare e di condividere questo stesso amore voi vivete in un continente multiculturale e multireligioso dotato di grande bellezza e prosperità ma provato al tempo stesso da povertà e sfruttamento estesi a vari livelli i rapidi progressi tecnologici possono aprire immense possibilità per facilitare la vita ma possono anche dare luogo a un crescente consumismo e materialismo specialmente tra i giovani voi portate sulle vostre spalle le preoccupazioni della vostra gente di fronte al flaggello delle droghe e al traffico di persone alla necessità di occuparsi di un gran numero di migranti e rifugiati alle cattive condizioni di lavoro allo sfruttamento del lavoro subito da molti come anche alla disuguaglianza economica e sociale che esiste tra i ricchi e i poveri in mezzo a queste tensioni si trova il pastore lottando e intercedendo con il suo popolo e per il suo popolo perciò credo che la memoria dei primi missionari che ci hanno proceduto con coraggio con gioia e con una resistenza straordinaria permetterà di misurare e di valutare il nostro presente la nostra missione da una prospettiva molto più ampia e innovativa questa memoria ci libera in primo luogo dal credere che i tempi passati fossero più favorevoli o migliori per l'annuncio e ci aiuta a non rifugiarci in pensieri e discussioni sterili che finiscono col centrarci e richiuderci in noi stessi paralizzando ogni tipo di azione impariamo piuttosto dai santi che ci hanno preceduto ed hanno affrontato le difficoltà proprie della loro epoca e lasciamoci spogliare di tutto ciò che ci si è attaccato addosso lungo la strada e che rende più pesante il cammino siamo consapevoli che ci sono strutture e mentalità ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore ugualmente le buone strutture servono quando c'è una vita che le anima le sostiene e le giudica perché in definitiva senza vita nuova e autentico spirito evangelico senza fedeltà della chiesa alla propria vocazione qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo può rendere difficile al nostro cuore l'importante ministero della preghiera e dell'intercessione il Santo Padre aggiunge alcune parole a braccio e poi prosegue osservando il cammino missionario in queste terre uno dei primi insegnamenti ricevuti nasce dalla fiducia di sapere che è proprio lo Spirito Santo il primo ad andare avanti e a chiamare lui anticipa la chiesa invitandola a raggiungere tutti quei punti nodali dove si formano i nuovi racconti e paradigmi raggiungere con la parola di Gesù i nuclei più profondi dell'anima delle nostre città e culture lo Spirito Santo arriva prima del missionario e rimane con lui l'impulso dello Spirito Santo ha sostenuto e motivato gli apostoli e tanti missionari a non scartare alcuna terra popolo cultura o situazione non hanno cercato un terreno con garanzie di successo al contrario la loro garanzia consisteva nella certezza che nessuna persona e cultura fosse a priori incapace di ricevere il seme di vita di felicità e specialmente dell'amicizia che il Signore desidera donare non hanno aspettato che una cultura fosse affine o si sintonizzasse facilmente con il Vangelo al contrario si sono tuffati in quelle realtà nuove convinti della bellezza di cui erano portatori ogni vita vale agli occhi del Maestro audaci coraggiosi perché sapevano prima di tutto che il Vangelo è un dono da seminare in tutti e per tutti ai dottori della legge ai peccatori pubblicani prostitute tutti i peccatori di ieri come di oggi mi piace evidenziare che la missione prima che attività da realizzare o progetti da porre in atto richiede uno sguardo e un fiuto da educare richiede una preoccupazione paterna e materna perché la pecora si perde quando il pastore la dà per persa mai prima tre mesi fa mi ha visitato un missionario francese che lavora da quasi quarant'anni nel nord della Thailandia ed è arrivato con un gruppo di 20-25 persone tutti padri e madri di famiglia giovani intorno ai 25 anni che lui stesso aveva battezzato la prima generazione di battezzati e adesso battezzava i loro figli uno potrebbe pensare hai sprecato la vita con 50 persone e Dio lo consola facendogli battezzare i figli dei figli con i quali aveva iniziato ha vissuto semplicemente con ricchezza la possibilità di evangelizzare indigeni nel nord della Thailandia uno dei punti più belli dell'evangelizzazione è renderci conto che la missione affidata alla Chiesa non consiste solo nella proclamazione del Vangelo ma anche nell'imparare a credere al Vangelo quante volte in momenti di tentazione proclamiamo il Vangelo senza credere al Vangelo bisogna imparare a credere al Vangelo e a lasciarsi trasformare da esso consiste nel vivere e camminare alla luce della parola che dobbiamo proclamare ci farà bene ricordare il grande Paolo VI evangelizzatore la Chiesa comincia con evangelizzare se stessa comunità di credenti comunità di speranza vissuta e partecipata comunità d'amore fraterno essa ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che deve credere le ragioni della sua speranza il comandamento nuovo dell'amore così la Chiesa entra nella dinamica del discepolato di conversione annuncio purificata dalla Signore si trasforma in testimone per vocazione una Chiesa una Chiesa in cammino senza paura di scendere in strada e confrontarsi con la vita delle persone che le sono state affidate capace di aprirsi umilmente al Signore e con il Signore vivere lo stupore dell'avventura missionaria senza la necessità consapevole o inconsapevole di voler apparire anzitutto lei stessa occupando o pretendendo chissà quale posto di preminenza quanto dobbiamo imparare da voi che in tanti dei vostri paesi o regioni siete minoranza e non per questo vi lasciate trascinare o contaminare dal complesso di inferiorità dal complesso di inferiorità o dal lamento di non sentirsi riconosciuti fratelli uniti a Gesù cerchiamo quello che Lui cerca amiamo quello che Lui ama e non temiamo di fare delle sue priorità le nostre priorità voi sapete molto bene che cos'è una chiesa piccola in persone e mezzi ma ardente e con la voglia di essere strumento vivo della promessa del Signore verso tutte le persone dei vostri villaggi e delle vostre città è importante questa fecundità evangelica annunciando il chiedigma con obras e con parole nei diversi ambiti dove i cristiani si trovano è un testimonio contundente una chiesa missionaria sa che la sua miglior parola è il lasciarsi trasformare dalla parola di vita facendo del servizio la sua nota distintiva non siamo noi a disporre della missione e tantomeno le nostre strategie è lo spirito il vero protagonista che continuamente spinge in via noi peccatori perdonati a condividere questo tesoro in vasi di creta trasformati dallo spirito per trasformare ogni angolo dove ci capita di essere il martirio della dedizione quotidiana e tante volte silenziosa darà i frutti di cui i vostri popoli hanno bisogno una spiritualità molto particolare questa realtà ci incoraggia a sviluppare una spiritualità molto particolare il pastore è una persona che innanzitutto ama visceralmente il suo popolo conosce le sue intolleranze le sue fragilità e i suoi punti di forza la missione è certamente amore per Cristo ma al tempo stesso è una passione per il suo popolo quando ci soffermiamo davanti a Gesù crocifisso riconosciamo tutto l'amore che ci restituisce la dignità e ci sostiene e proprio lì se non siamo ciechi iniziamo a percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno di affetto e di ardore verso tutto il suo popolo ricordiamo che anche noi siamo parte di questo popolo siamo stati scelti come servitori non come padroni o signori questo significa che dobbiamo affiancare coloro che serviamo con pazienza e amabilità ascoltandoli rispettando la loro dignità incoraggiando e valorizzando sempre le loro iniziative apostoliche le loro inizialità non perdiamo di vista il fatto che molte delle vostre terre sono state evangelizzate da laici non clericalizziamo non clericalizziamo la missione per favore aggiunge il Papa braccio questi laici laici hanno avuto la possibilità di partellare il dialetto della gente esercizio esercizio semplice e diretto di inculturazione non teorica né ideologica ma frutto della passione del condividere Cristo il santo popolo fedele di Dio possiede l'unzione del santo che siamo chiamati a riconoscere apprezzare e diffondere non perdiamo questa grazia di vedere Dio che agisce in mezzo al suo popolo come lo ha fatto prima e lo fa e lo continuerà a fare mi viene un'immagine che non era in programma il piccolo Samuel che si svegliava di notte lo rispettò al viejo sacerdote debil de carattere che dejava di essere però non le parlò le parlò a un muchacho a uno del pueblo in modo particolare vi invito a tenere sempre la porta aperta ai vostri sacerdoti la porta è il cuore non dimentichiamo che il prossimo più prossimo del vescovo è il sacerdote state loro vicino ascoltateli cercate di sostenerli in tutte le situazioni che affrontano specialmente quando li vedete scoraggiati o indifferenti che è la peggiore delle tentazioni del demonio l'apatia l'indifferenza e tutto questo fatelo non come giudici ma come padri non come gestori amministratori che si servono di loro ma come autentici fratelli maggiori create un clima di fiducia che favorisca un dialogo sincero e aperto cercando e chiedendo la grazia di avere la medesima pazienza che il Signore ha con ognuno di noi e che è davvero tanta cari fratelli so che sono molteplici gli interrogativi che dovete affrontare in seno alle vostre comunità sia nel quotidiano sia pensando al futuro non perdiamo mai di vista il fatto che in quel futuro tante volte incerto quanto problematico è proprio il Signore stesso che viene con la forza della risurrezione trasformando ogni piaga ogni ferita in fonte di vita guardiamo al domani con la certezza che non andiamo da soli lui ci aspetta invitandoci a riconoscerlo soprattutto nello spezzare il pane imploriamo l'intercessione del Beato Nicolás e di tanti santi missionari perché i nostri popoli siano rinnovati con la stessa unzione dato che oggi siete qui numerosi vescovi dell'asia approfitto dell'opportunità per estendere questa benedizione il mio affetto a tutte le vostre comunità in modo particolare ai malati e a tutti coloro che stanno vivendo momenti di difficoltà che il Signore vi benedica vi protegga e vi accompagni sempre e per favore non dimenticatevi di pregare far pregare per me anche perché tutto quello che ho detto a voi vale anche per me grazie Papa Francesco ha terminato in questo momento il pronunciamento del discorso ai vescovi della Thailandia e della federazione delle conferenze episcopali asiatiche ave maria grazia plena domino teco benedicta tui mulieri vuse benedicto frutto venti tui es e ciancii la domini ave maria grazia plena domino teco benedicta tui mulieri vuse benedicto frutto venti tui es e prego caro faccio mese ave maria grazia plena domino teco benedicta tui mulieri vuse benedicto frutto venti tui es ora per nobis santa dei genitri benedicto benedicto E il Santo Padre, prima di procedere con il saluto ai Vescovi, la foto di gruppo ha invitato tutti i Vescovi che hanno partecipato all'incontro a recitare insieme la preghiera dell'Angelus e poi ha impartito la benedizione. Questo perché ricordiamo in Thailandia, dove si sta svolgendo questo incontro, è proprio mezzogiorno e quindi sono sei ore in avanti rispetto all'ora dell'Italia e dell'Europa. Qualche parola sulla conferenza episcopale della Thailandia, che è così numerosa. Una conferenza istituita nel 1965 e composta dai presuli di ben due arcidiocesi e nove diocesi suffragane del paese. Il presidente è il cardinale Covitavani, arcivesco di Bangkok, mentre il vicepresidente è Monsignor Sridarunzil. La conferenza episcopale italiendese è membro della federazione delle conferenze episcopali dell'Asia. Abbiamo visto sia il Papa che il cardinale Covitavani hanno ricordato che nel 2020 ci sarà nel cinquantesimo della fondazione della federazione un'assemblea in cui la federazione si riunirà, la federazione delle conferenze episcopali asiatiche. Ricordiamo che sono circa 19 i membri della federazione delle conferenze episcopali asiatiche. Sono le conferenze episcopali di Bangladesh, Corea, Filippine, Giappone, Indonesia, Kazakhstan, Myanmar, Marta, Elandia, Timor, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, i cattolici di Malesia, Singapore e Brunei, la conferenza episcopale dell'Aos e della Cambogia, la conferenza episcopale regionale cinese, la conferenza interrituale dei vescovi dell'India, quella dei vescovi indiani di rito latino, il sinodo arcivescovile maggiore della chiesa siro malabrese in India, il sinodo arcivescovile maggiore della chiesa siro malabrese. E poi a questi si aggiungono in qualità di membri associati anche gli ordinari delle diocesi di Hong Kong e di Macao e dell'amministrazione apostolica del Kirghizistan, della missione sui iuris del Tajikistan, della missione sui iuris del Turkmenistan, dell'amministrazione apostolica dell'Uzbekistan, del vicariato apostolico del Nepal e della prefettura apostolica di Mongolia, di Ulan Baatar. Questa per darvi un'idea di quella che è l'enorme area di interesse della federazione delle conferenze episcopali asiatiche. Siamo arrivati al termine di questi primi incontri nella seconda giornata di questo viaggio, la seconda giornata di impegni del Santo Padre di questo 32esimo viaggio apostolico internazionale in Asia, in Thailandia e in Giappone. Chi vi ha parlato è Stefano Leschinski. Vi ringrazio. Saluto chi è stato in ascolto con noi, chi ci ha seguito in collegamento, così come le emittenti di Radio Luce di Sanna Benedetto del Tronto, dall'Aula delle Benedizioni in Vaticano. Grazie a tutti per averci seguito da Stefano Leschinski, Laudetur Jesu Christus. 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 Grazie.